buon pomeriggio scusate se faccio anche questo video però come si dice man mano che viene la fame si mangia sempre di più a parte questo 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 è l'ultimo l'ultimo di oggi poi ci vediamo domani video dedicato all'inder under 19 che vince in rimonta a firenze contro la fiorentina per 2 a 1 i neri azzurri erano sotto per 1 a 0 alla fine del primo tempo con il gol dei toscani al decimo di coffe e l'inter si è rifatta nei secondi 45 minuti con il gol di persi nel 66esimo e mulattieri all'ottantesimo segno 2 quotato tra i due due 0 6 oltre la posta inder che con questo successo rimane ben saldo al terzo posto ma apre qualche spiraglio alla seconda posizione che ricordiamo valgono i semifinali playoff inter terza quota 31 ovviamente bisogna aspettare la partita del cagliari di domani che seconda quota 35 punti affronterà in casa l'impoli che è un solo punto dall'ultimo posto playoff occupato da genova quota 24 la fiorentina invece dopo il successo della settimana precedente a bologna per 1 a 0 ora quindi si vede di nuovo rainbow scatta nello spareggio per rimanere in primavera 1 inter che ritornerà settimana prossima tra le mura amiche affronterà il napoli i campani sono al momento quindicesimi con 12 punti e nella gara di oggi che si sta giocando in questi istanti sta perdendo in casa contro il bologna per 1 a 0 quindi viva il calcio viva lo sport nel caso diciamo specifico per questa occasione forza inder che ripetiamo con questa vittoria mandine ben saldo il terzo posto a quota 31 punti ma prova ad avvicinarsi al secondo posto occupato al momento dal cagliari che chissà domani potrebbe anche potrebbe vincere pareggiare o perdere ciao a tutti